Mi chiamo Betti Francesca, vengo dalla Sardegna da Pattada, sono stata bene la prima volta, la seconda giustamente di più, cioè di più, anche la prima volta sono stata benissimo con i denti, non ho avuto problemi di niente, bene sono andata a mangiare, ho mangiato tranquillamente, giustamente adesso è diverso il fisico, è diverso il modo di parlare, perché prima non potevo parlare così, se c'erano pochi denti. Vi ringrazio tutto dal più piccolo al più grande, giustamente perché lo staff ho visto che è grandissimo e complimenti di continuare così, lavorare così, perché anche quello è un punto. Grazie a voi di cuore, continuate a lavorare così, ve lo meritate. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti.